Messa all'aperto questa mattina i blocchi degli operai nei prestiti dello stabilimento Eni, l'ha celebrata don Giorgio Cilindrello, parroco della chiesa San Francesco. La chiesa, ha detto il prelato, sta con gli operai portando una parola di conforto, un segnale di vicinanza. Lo spiraglio ci deve essere, ci deve essere in qualche modo, deve risorgere questa città che a quanto pare ha tanti nemici e non è solo il grande mostro che possiamo definire politica, ma ha tanti amici. Quindi dietro questa azione distruttiva io penso che ci sia anche un qualche movimento occulto o manifesto contro la famiglia. Io non dico che non c'è politica per la famiglia, ma c'è contro la famiglia. Queste sono famiglie, hanno bambini, hanno delle spose, delle situazioni, dei mutui a carico. Cosa fanno? Cosa faranno? Si ripete il déjà vu del luglio dell'anno scorso, no? Non è possibile, non è possibile. Una città che era vocata al turismo per la bellezza, per la centralità, l'abbiamo fatta diventare città industriale e adesso l'industria abbandona e vuole abbandonare le famiglie, la città. Non è possibile. E come quando parla di nemici, a chi si riferisce nella fattispecie? Chi ce l'ha contro Gela? Contro i lavoratori? Contro i lavoratori ce l'ha, penso, la politica. Perché non si capisce perché vogliono azzerare tutti i siti, specialmente quelli del sud. Tutti i siti del sud stanno chiudendo, o quasi tutti. Per i lavoratori che protestano giustamente, per le famiglie dei lavoratori che vivono una situazione difficile, per i figli dei lavoratori, le chiedo che Natale sarà? Un Natale carico di ansia, di ricerca, di prospettiva per il futuro, dove lì nessuna prospettiva, nessuna promessa. Prima c'erano le promesse, ora si sono resi conto che ormai le promesse nessuno dà conto, perché evidentemente l'espressione dei cittadini poi si risolve lì alle urne, ma evidentemente qualcuno forse aveva avvertito di certi passi che avrebbero messo in ginocchio la città.